Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento con molto piacere, vi dico la verità, Squid Game, il gioco ufficiale di Netflix in edizione italiana a cura di Asmo d'Italia, che ringrazio di cuore per la copia fornita e è un gioco che, banale andarvela a dire, per tutti gli amanti della serie che è uscita su Netflix che se non erro dovrebbe aver già confermato la seconda stagione, è un gioco veramente molto interessante e pari preciso a quello che avete visto nella serie televisiva quindi vi divertirete tantissimo a giocarlo, anche non, io ad esempio lo dico, non me ne vergogno non ho ancora visto la serie televisiva, quindi me la sono fatta spiegare da mia moglie però comunque, e me la vedrò quanto prima, tra l'altro mia moglie, piccola parentesi, ha stampato anche la maschera in 3D del capo di tutti loro però comunque è un gioco che si fa apprezzare appunto anche da chi, come me, esempio principale non ha visto la serie televisiva, ve ne parlo a breve dopo la sigla Squid Game, in questa edizione italiana a cura di Asmo d'Italia è un gioco, come riporta la scatola, dai 16 anni in su sia per le meccaniche che anche per il contenuto perché forse per le meccaniche possiamo abbassarla però per il contenuto, insomma, si parla di cecchinati in testa e di morti non è tanto da rappresentare a un ragazzino, ma come la serie televisiva una durata è di 45 minuti e dai 3 ai 6 giocatori quindi un punto forse negativo è che qui si gioca minimo in 3 perché ciascuno di voi, ciascun giocatore, avrà una squadra e un colore avrete in mano ovviamente diversi personaggi che saranno qui rappresentati come appunto potete vedere dal video e avremo vari giochi da fare tra cui i più famosi sono 1,2,3 stella, tira alla fune, il ponte di vetro e poi quello più famoso che è il sesto, il finale, il gioco del calamaro quindi voi avrete delle carte che dovrete giocare nel momento giusto come ad esempio nel primo gioco 1,2,3 stella, l'avete vista anche nella serie televisiva dovrete decidere come muovere i vostri mini perché la serie appunto ci fa vedere che qualcuno quando ha capito che se sbagliavi se la ragazzina robot si girava e ti vedeva con gli occhi e venivi cecchinato in testa cominciava a camminare lento il problema è che puoi andare anche lento ed è più facile fermarsi ma se scade il tempo vieni comunque cecchinato quindi devi arrivare fino in fondo e allora qui subentano appunto le meccaniche con le carte e tutto la carta magari che ti fa fare la corsa la carta invece che ti fa restare fermo la carta ti devi arrivare in fondo appunto al gioco dell'1,2,3 stella senza che il cyborg o la ragazzina si giri e ti guardi con le telecamere che ha il posto degli occhi perché sennò viene cecchinato e devi trovare la tua formula perché poi magari c'è anche il gioco scorretto dare una spinta a qualcuno per farlo muovere e magari quello viene ucciso ed ha eliminato un avversario e in ogni prova avrete sempre un gruppo di nuovi personaggi di nuove appunto possibilità che potrete utilizzare per superare la prova come ad esempio nel ponte di vetro dovrete camminare su questo ponte e alcune zone saranno resistenti altre no quindi nel caso il ponte si dovesse appunto sfondare cadete di sotto o come nel caso del tir alla fune le meccaniche sono particolari di questo gioco che non vuol dire difficile vuol dire semplicemente c'è un attimino da rivederle perché ogni gioco ha le sue meccaniche o meglio ogni gioco ha le sue regole le meccaniche sono sempre le stesse avete delle carte in mano che dovete giocare nel momento giusto però facendo molta logistica facendo attenzione a quante persone portate avanti perché sennò poi giustamente arrivate alle prove finali che non avete più nessuno in campo e avete perso automaticamente però qui dovete anche e soprattutto andare a vedere un po' le regole lì per lì del nuovo gioco perché ogni gioco ha delle regole a sé quindi sono tipo è un macro regolamento con dentro dei mini regolamenti per ogni gioco quindi dovete un attimino ci vuole giusto il rodaggio il rodaggio di una partita per ogni gioco per arrivare fino a un fondo ma fondamentalmente poi le meccaniche si assomigliano e sono tutte uguali in conclusione questo Squid Game gioco ufficiale di Netflix edizione italiana a cura di Asmo d'Italia che ringrazio di cuore come sempre è un titolo assolutamente consigliato da mia moglie per tutti quanti gli amanti della serie televisiva però anche chi come me non l'ha vista magari si riesce a divertire perché poi è un po' sadico un po' macabro cioè l'idea che se perdi un 2-3 stella un gioco da bambini il più stupido lo facevamo tutti non siamo a nascondino vieni cecchinato in testa insomma un po' di rodanzia te la mette onestamente ed è veramente molto interessante come sempre se lo volete ordinare dalla Gioco Libreria Semola nostro negozio sponsor primo link in descrizione in tutti i nostri video e soprattutto in sua impressione come vedete adesso al miglior prezzo sul mercato usate sempre il codice discount Corridan 7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiori a 79 euro spese postali gratuite in tutta Europa se lo trovate nel catalogo ma è finito o proprio nel catalogo non c'è mandate una mail al supporto a Corrado e fate presente che arrivate dal canale di Corridan lui farà il possibile per trovarvelo anche se è un titolo fuori catalogo oppure se è un titolo semplicemente finito quindi se ha bisogno di nove scorte per farvela avere ed usate sempre il codice sconto per tutti gli acquisti Corridan 7 e il servizio della Gioco Libreria Semola è sempre perfetto tempestivo e impeccabile fatemi sapere cosa ne pensate e dai veramente è un gioco molto semplice però deve fare quello che fa la serie televisiva e lo fa molto bene quindi passato a pieni voti ciao ragazzi alla prossima se questo video ti è piaciuto lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita primo link in descrizione primi link che trovate ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale facebook al canale mio di live twitch alla mia pagina instagram e alla mia pagina tiktok che sono sempre aggiornate e su twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata mi raccomando iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale youtube lo troverete sempre lì ciao alla prossima